sono sempre stato nel corso degli anni un devoto amante del consumismo in pratica lo siamo quasi tutti inconsciamente siamo stati plasmati in questo modo siamo stati costruiti artificialmente non vogliamo una cosa perché davvero questa cosa ci rende migliori o ci rende felici ma la vogliamo perché dobbiamo uniformarci agli individui che ci circondano alla società o dobbiamo assolutamente distinguerci mostrando i nostri possedimenti mostrando che siamo qualcuno e che contiamo mostrando una realtà effimera una maschera e mai noi stessi nella mia vita ho vissuto tante avventure sono stato fortunato devo ammetterlo in realtà più che fortunato mi ritengo audace nel puro senso della parola seguendo il detto dei latini autentes fortuna iuvat letteralmente il destino favorisce chi osa nella non felicità della mia situazione decisi che era necessario un cambiamento nella mia vita un cambiamento importante ed ora conosco me stesso so quando arrivo in una situazione ad essere limitato a raggiungere il limite mentali della mia crescita in un posto in una data situazione l'unica possibile via è cambiare drasticamente iniziare una nuova avventura ma il minimalismo in tutto ciò che c'entra come architetto ho sempre sentito questa parola ripetuta minimalismo purismo ma sempre applicata all'arte al design e all'architettura mai alla vita di tutti i giorni poi venne il 2020 arrivo il covid e di colpo la mia vita si trasformò costretti nelle nostre case senza possibilità di uscire alle prese con delle sfide inimmaginabili fino a pochi mesi prima io isolato e lontano dall'italia con soltanto un amico davvero importante accanto ma con tanto tempo per studiare me stesso e così mentre completavo la mia tesi completavo anche un processo mentale un processo che in inglese verrebbe definito decluttering semplicemente fare ordine fare pulizia in italiano ma attenzione non mi sento arrivato non mi sento di aver completato questo processo di decluttering ma so che importanza avuto nella vita di tutti i giorni e così incontrai il minimalismo precisamente incontrai the minimalists i minimalisti joshua e ryan nella noia di una delle tante giornate di quarantena il mio amico e coinquilino benito venne da me parlandomi di un certo matt d'avella uno youtuber americano così iniziano a spulciare tra i suoi video scoprimmo che era stato director di un documentario di netflix chiamato the minimalists a documentary about the important fix e lì con ob joshua e ryan non entro nei dettagli semplicemente date un'occhiata a quel documentario un'ora e diciotto minuti dove si narra del loro viaggio e della scoperta del minimalismo a quel punto per me era scattato qualcosa era agosto 2020 ero in italia in vacanza per rompere la monotonia della mia permanenza all'estero e fu proprio lì che vedi il documentario all'interno del film ambientato in america molte delle persone intervistate sono degli autori hanno scritto del minimalismo decisi così di segnarmi i nomi di queste persone e successivamente i titoli dei libri d'errò scritti ed inserli nel mio carrello di amazon una volta ripartito ordina i libri tutti in blocco almeno sette otto libri che mi arrivarono a casa tutti assieme avevo ora una bella libreria del minimalismo tempo da dedicarci e tempo per leggere di questo movimento che tanto mi stava ispirando iniziai proprio dai libri di joshua e ryan e mi spostai poi su altri autori pagina dopo pagina il processo fu una rivelazione mi accorsi che la maggior parte dei problemi che affrontai durante la mia vita erano ascrivibili all'aver vissuto una vita diametralmente opposta a quella proposta dai minimalisti era incredibile come semplicemente avanzando di pagina in pagina potessi rintracciare la fonte di molti dei problemi che mi portavo dietro da anni e che psicologicamente hanno sempre pesato tantissimo sulla mia vita e sulle mie decisioni ma è davvero così semplice ordinare qualche libro su amazon leggere qualche pagina a tenere il miracolo in realtà credo che il punto fondamentale che spinge qualcuno ad avvicinarsi a certe tematiche è il capire che qualcosa nella propria vita non funziona ed anziché farsi trasportare dalle onde essere in balia dell'oceano e viaggiare senza meta si cerca fortemente una soluzione ai propri problemi tuttavia la consapevolezza non basta bisogna infatti avere la forza di studiare se stessi e rintracciare la soluzione dei propri problemi per tante persone il minimalismo può essere una soluzione a tanti dei problemi della società moderna il consumismo la perdita dei valori distanziamento sociale la povertà intellettuale sono tutte tematiche importanti all'interno del minimalismo il mani il minimalismo ci può dare una mano a ritrovare nelle nostre vite quelli che sono i valori veri la famiglia le emozioni i momenti che vanno vissuti la semplicità delle cose e gradualmente affronterò questa tematica che mi sta aiutando a diventare una persona migliore assieme affronteremo questo percorso la scoperta del minimalismo e vi parlerò della mia esperienza di vita grazie ci sentiamo presto